Sono qui alla Singularity University in California presso il centro di ricerca NASA Ames. Questa istituzione nuova è nata con la sponsorizzazione di Google e NASA per capire qual è l'impatto del cambiamento tecnologico che accelera sulle persone, sulle scuole, sulle istituzioni, sulle aziende e sulla società allargata. Realizza due corsi, un corso estivo di 9 settimane e un corso rivolto ai manager di 9 giorni di cui primo esempio si è svolto tra giugno, luglio e agosto nell'estate 2009 e il primo corso inaugurale per i manager si sta svolgendo a novembre appunto al centro NASA di Nuovo Futurale. Gli esperti che vengono da tutto il mondo ad aiutare lo svolgersi dei corsi e le visite presso le aziende e i laboratori attorno nella Silicon Valley con naturalmente la presenza di studenti brillanti che lavorano in gruppo per rispondere gli stimoli ricevuti rendono questa esperienza veramente unica. La partecipazione è aperta per le iscrizioni per l'anno 2010, quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti!